famo il travestito ragazzi sono qui nel grande frattello e facciamo proprio il grande frattello del 2011-2012 sono mi chiamo aurora e sono una grande ragazza famosissima sa che faccio dei prete ragazzi vado sul palo faccio iè poi sono una brava ragazza che lavorerà in dance ai miei cose fantastiche tipo lavoro nei fumetti disegno lavoro nella banca e poi come si dice mi piace mascherare tutti i miei sentimenti atroci filosofici nella mia vita amo ascoltare musica dance amo patinare amo andare a cavallo amo giocare ping pong amo andare sopra la montagna e scadare tutte le vette più alte del mondo ma la cosa più bella ragazzi che quando vai in montagna ci vuole sempre gli occhialetti perché se no ti sbuocci tutta la faccia anzi l'occhio ti brucia tutto ma la cosa più fantastica portare sempre con dietro volatran il volatran ti aiuta tanto a stimolare le tue capacità muscolatorie usare sempre con voi lo yotosan è un perché se uno c'è un maticola e comincia a tossire può rischiare qualche varanga attusa quindi è meglio non rischiare ragazzi con voi portare sempre l'acqua perché se una sete muore poi portare sempre con voi un piumone sacca a pelo non portare mai la sacca a poche perché non vi serve a niente aspettate un secondo aspettate un secondo aspettate un secondo eccomi ragazzi, sono tutta per voi, adesso sincronizzatevi nella vostra radio, quindi usate 7 occhialetti di cappello, che vale per il sole, quindi e poi per non dare mai a mettete occhialetti sul cappello, quindi come faccio io così e sulle superficie, quindi io vorrei entrare in campo a terra perché mi piace essere me stessa e ricordare i miei sguardi alle persone che nessuno mi considera tanto, mi puoi pregare a me stessa della mia vita futura perché quella che io adesso sono un ragazzo che ha tante cause della sua vita ragazzi è una cosa, il grande fratello è un sogno di tutti, quindi chi è entrato qualche stava di persona, può sentarci una super coglione come me secondo voi, una buona o un'altra, una cosa del grande fratello, chi lo sa, forse sì, forse no, ma con me deve entrare anche la mia miglioramento perché se no entra lei come possiamo fare dei super jack allucinanti e allucinanti come facciamo adesso? come la mente contorta dice, ma gli scherzi telefonici mi ci vuole anche il mio braccio destro che mi aiuta sempre come difficili e sempre c'è lei insomma e quindi ragazzi, quanto sempre ho fame, ripide, a parte di fame ma vedo 602 kg e faccio la vita da non occupandola adesso la casa più bella del mondo è quando la dice, è in terra, andavo a mangiare qualcosa, tutti fanno no ragazzi no, non c'abbiamo il cibo, non si mangia, e si mangia, la vita è come di un panna ho fatto il problema con il mio fratello e spero che vi piaccia, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è.